Dopo il sorpasso l'impatto con un camion è stato inevitabile. Forse è stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia alla causa dell'incidente costato la vita ad un 69enne di Cerignola. Le sue generalità non sono state ancora rese note. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 231 all'altezza dello svincolo per Palombaio a pochi chilometri da Bitonto. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo girandosi su se stesso. A quel punto sarebbe sopraggiunto il camion il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto. Non si esclude che una delle cause sia stata anche la forte velocità a cui viaggiava il 69enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I carabinieri stanno accertando l'esatta dinamica dell'impatto.